E' fatto appannico sia il viaggio in auto d'epoca di Corrado Lopresto, architetto e collezionista milanese. Da 40 anni acquista e restaura vetture che hanno fatto la storia dell'automobilismo italiano. Per ricordare il settantesimo anniversario del ride Reggio Calabria Milano di Luigi Fiertler con la sua micro vettura Lupetta, Lopresto ha deciso di intraprendere un viaggio che attraverserà tutta Italia, da sud a nord, da Palermo a Milano, per incontrare amici e appassionati pronti a unirsi nel tragitto con auto d'epoca. Grazie.